Continua l'iter periglioso del Salva Milano, il disegno di legge che mira a risolvere la crisi urbanistica nel capoluogo Lombardo, uno stallo che si è venuto a creare a causa di presunte numerose violazioni della normativa edilizia che hanno bloccato in città circa 150 cantieri, di cui 15 risultano sotto indagine. Dopo i tentativi falliti di agganciarlo al Salva Casa e al decreto infrastrutture, il Salva Milano, a cui è stata posta la dichiarazione di urgenza, è ora alla Camera dove sono terminate le audizioni e adesso verranno presentati gli emendamenti. Tuttavia il Salva Milano è da molti percepito come una sanatoria in quanto mira a regolarizzare situazioni edilizie già esistenti senza necessariamente affrontare le cause strutturali dei problemi urbanistici. Di questo aspetto si è parlato a Milano in un convegno organizzato al Pirellone sulla questione urbanistica della città e sulle possibili soluzioni. Innanzitutto non credo servano nuove leggi, serve sicuramente mettersi a tavolino ma anche a un tavolo credo con i cittadini, gli operatori, ovviamente gli amministratori per cercare di capire in realtà quali strade ci sono anche al di fuori del contenzioso dal punto di vista amministrativo dal punto di vista anche di accordi che si possono trovare. L'importante è riprendere in mano la città. La situazione di stallo nel settore dell'urbanistica a Milano sta creando un calo importante nell'attività edilizia con una riduzione significativa delle nuove procedure e degli investimenti, una condizione che senza provvedimenti mirati può solo che peggiorare. Beh, intanto temo che sarà un andare avanti a lungo nel senso che appunto se non si interviene in via amministrativa o comunque in altro modo i contenziosi andranno avanti e temo che un'eventuale legge possa in realtà aumentare il contenzioso e magari spostarlo alla Corte Costituzionale. Quindi io mi auguro, ripeto, per Milano che in realtà si faccia una riflessione insomma con calma e anche con un minimo di, come dire, responsabilità. Al convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle erano presenti anche alcuni parlamentari pentastellati contrari al nuovo disegno di legge del Salva Milano. La soluzione non può essere questa proposta di legge del Salva Milano perché è una proposta di legge che va a sanare delle condizioni edilizie per cui sappiamo che ci sono in corso delle indagini da parte della Procura. Il settore edilizio va sollevato con altri tipi di interventi. Pensate a quello che è stato il super bonus del 110% e che proprio in questi giorni sta rivedendo il PIL, sempre il rialzo degli anni 2021, 2022 e 2023 trainato dal settore dell'edilizia. È lì che bisogna intervenire e non nel sanare questioni per cui ci sono delle indagini in corso.